Cosa costiamo oggi? Oggi augurare ad Antonio è chiara che quella gioia che oggi è presente nei loro volti ma soprattutto nei loro cuori sia la gioia di tutti i giorni della loro vita e possano risplendere di quella gioia che proprio la loro figlia esprime con la sua simpatia e con la sua gioia continua. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.